È stata dedicata ad Alessandro Rupoli la via adiacente alla nota azienda Schnell in località San Liberio nel comune di Coglia al Metauro. Rupoli, scomparso il 10 luglio del 2019 all'età di 96 anni, è stato un noto imprenditore fanese che fondò nel 1962 l'omonima azienda, conosciuta poi in tutto il mondo, per la produzione di macchine automatiche per la lavorazione del ferro per cemento armato. La cerimonia, che si è svolta la scorsa settimana alla presenza dei titolari, familiari, di tutti i dipendenti e gli operai, ha visto la scopertura della targa della via accompagnata da un lungo applauso. Vivo il ricordo del figlio che racconta commosso i bei ricordi del padre. La personalità e il carattere del nostro fondatore, appunto di Sandro, riusciva a coniugare sia l'aspetto professionale e anche un aspetto umano che è rimasto sia nel nostro ambiente, in azienda, sia anche nella città dove tante persone lo conoscono e lo ricordano per le sue tante iniziative. Una persona di altri tempi che speriamo di essere degni di ricordare. Devo dire che il comune di Colli al Metauro ha accolto la nostra richiesta con un tempo molto breve. Ringraziamo anche l'amministrazione comunale e il sindaco per averci dato la possibilità di organizzare nella giornata odierna questa manifestazione che per noi è molto significativa. Tra l'altro capita anche in concomitanza con un convegno, il primo che riusciamo a organizzare dopo il coronavirus qui in azienda. Abbiamo tanti clienti italiani e quindi ci sembra che sia la migliore situazione, la migliore giornata per ricordare il fondatore di Cine. Presente alla giornata anche il primo cittadino Stefano Aguzzi che oltre ad aver partecipato al taglio del nastro del tratto stradale ha voluto ricordare la figura di Alessandro. Abbiamo ritenuto molto opportuno portare avanti questa iniziativa proprio nel ricordo di questa persona, nell'enfatizzare diciamo così questo imprenditore ma soprattutto questo uomo perché al di là ha delle grandi capacità dimostrate per tutti i 96 anni della sua lunga vita perché fino all'ultimo giorno è stato qui in azienda tranne proprio gli ultimissimi giorni di malattia. Ha voluto portare avanti appunto come imprenditore questa azienda, l'ha fatta crescere, ha dato tanto lavoro, ha reso diciamo ricco questo territorio economicamente dal punto di vista industriale, dal punto di vista proprio dei servizi, ha donato spesso anche diciamo alla cosa pubblica dell'attività, la sanità ma la stessa palestra qui di Montemaggiore ha avuto una donazione per gli arredi interni da parte proprio della Schnell, quindi un uomo molto avveduto sotto questo punto di vista ma soprattutto un uomo molto tra virgolette umile, sempre pronto al dialogo, sempre pronto ad allungare la mano e a salutare la persona.